Ciao, sono Andrea Maderna e questo è un altro degli unboxing raffazzonati di Retro Outcast, i raffazzonboxing forse li possiamo chiamare, come al solito collegato all'uscita di un nuovo episodio di Retro Outcast che è contemporaneamente a questo video ed è il primo di due episodi dedicati ai 50 anni di Atari, con la nostra direttrice un po' bizzarra, in questo parliamo di Atari Lynx, in particolare di due giochi, California Games e Todd's Adventures in Slime World, io non ho i Lynx, non ho giochi per Lynx, però ho California Games per Master System, come vedete qua, un gioco a cui sono molto affezionato perché ci giocavo tantissimo da bambino e quindi non c'è molto da mostrare, però come al solito mi piace mostrare, l'ho recuperato di sopra, vedete la classica confezione da Master System europeo con i quadrettini bianchi, anch'io, io non so chi è a me questa idea, devo dire, a me da un lato non dispiaceva perché comunque mi piaceva il fatto di avere una uniformità, no? C'era proprio il servizio sullo scaffale, tutti quei quadrettini, anche per il Mega Drive e tutti quei quadrettini neri, però anche esteticamente non era bellissimo, soprattutto rispetto alle confezioni in particolare giapponesi che erano bellissime fuori di testa, ma che ci dobbiamo fare? E insomma, il retro mostra quattro delle prove, c'è lo skate, il surf, la BMX e il pattinaggio, tra l'altro rispetto a quello per l'Inx per esempio c'è la BMX e anche il Frisbee, che non ci sono nella versione portatile, e è molto diverso la BMX, il pattinaggio, e la BMX comunque è molto diversa, proprio a livello estetico e come visuale, è proprio un'altra cosa, è più leggibile. Insomma, California Games c'è la descrizione, vai nelle spiagge e competi per il trofeo dello sport più violenti degli costa? California Games ti porta nel vivo di un torneo di sei giochi diversi, allenati o competi in uno, alcuni, oppure in tutti i giochi, allena i tuoi occhiai da sole e sandali, il surf è finito ragazzo, è tempo di raggrupparsi. Allora, come direbbero gli americani, there's a lot to unpack, cioè quindi, gli sport più violenti della costa, in inglese era the most radical sports, ok, quindi vabbè, chiaramente traduzione fatta non sapendo come tradurre radical, ma violenti, non c'è niente di violenti, ma che è? Pit Fighter, vabbè, cioè praticamente dalla descrizione è, non lo so, American Gladiators, e competi in uno, alcuni, oppure tutti i giochi, in one, a few, or all events, vabbè. Prendi a fare le tocchiai da sole e sandali, il surf è finito ragazzo, a surf's up dude, che è letteralmente l'opposto di il surf è finito, ok, time to jam, è tempo di raggrupparsi, sono allibito da questa cosa, è bellissima, cioè veramente, complimenti a chi traduceva queste cose, vabbè, immagino non fosse esattamente un lavoro su cui puntavano molto. Giocatori da 1 a 8, control pad, control stick, allenamento, compete in one, some, all. Bello perché i giocatori da 1 a 8, ovviamente facendo i turni, non è che si poteva giocare in a 8 tutti assieme. Apriamo, dentro c'è la solita cartuccia, sono bellissime e bruttissime le cartucce del Master System, non saprei com'è altro descriverle, cioè, è che ci voglia proprio bene, poi ho questo look giocattolo, che bei tempi, ah l'infanzia, e il manuale che come le scatole aveva la sua configurazione standard, questa cosa mi faceva impazzire anche il fatto che c'erano tutte le lingue messe in colonne, avevi tutte le lingue su ogni pagina, tra l'altro vedete che c'era anche l'immagine del Master System 2, eravamo già in quel periodo, e insomma, vabbè, in realtà è un manuale in cui non c'è granché da mostrare, nel senso che vengono spiegati tutti i vari giochi, con piccoli screenshot, è anche la grafica del, e la grafica era decisamente più bella rispetto a quello del Lynx, va detto, qua c'era il mitico pad del Master System, con la spiegazione dei comandi, mai riuscito a giocare al maledissimo skateboard, però insomma, un manuale abbastanza, abbastanza fetido, abbastanza pescione, va detto una cosa, no, c'è la spiegazione del torneo, di come si fanno i punti, a seconda di come si vanno le varie prove, una cosa carina, attenzione, abbiamo la spiegazione del gergo della California, questo non è su sei colonne, tedesco, inglese, italiano, ma c'è solo l'inglese, ve li leggo, California spoken here, aggro, if you're a dare devilish dude, you'll go away aggro, executing aggressive moves on the ramps, capisco perché non glielo tradotti, poi c'è awesome, o inspiring, cioè, per esempio, that's a no sound dude, è fantastica sta roba, bio, che è l'abbraviazione di, ah, bionic, bionic, devi essere super umano nelle tue mosse aggro, perché ti definiscano bio o bio, dude, che vuol dire buddy, può essere utilizzato per esprimere incredulità, sorpresa, o come saluto amichevole, tipo, hey dude, dipende da come lo dici, gnarly, la mente il corpo si piegano, no, mind and body bendingly difficult and awesome, cioè onde, rampe e movimenti aggro pazzeschi possono essere gnarly, però possono esserci anche prove d'esame gnarly, appuntamenti gnarly, coprifuoco gnarly, auto gnarly, like, like, do we really have to, like, describe this, poi c'è radical, che può essere oltreggioso, cioè, fantastico, incredibile, fuori di testa, che mosse radical, radical moves, dude, o cool, sarebbe radical se potessi essere alla rampa alle 5, cioè, sarebbe una bella cosa, ok, totally, completamente, interamente, quindi qualcuno o qualcosa è totally awesome, totally radical, totally aggro, in California, everything is totally something, spesso accompagnato da tubular, tubular, un aggettivo che arriva dal mare e si è evoluto come termine di uso quotidiano, feste, concerti, eccetera, possono essere totally tubular, il suo uso è però messo a rischio l'estinzione dall'arrivo della parola awesome, e giustamente tubular va con totally, e poi toner, la parola più nuova di tutte, è una combinazione di totally e gnarly, e se qualcosa è totally gnarly, quindi è senza dubbio toner. Sono contento di aver fatto questo unboxing. Ah, e in fondo, in coda, lo scorebook dove segnare i punteggi, che è completamente vuoto, non escludo che il mio dell'epoca in realtà avesse dei punteggi, purtroppo io vendetti il Master System con tutti i giochi per comprare il Mega Drive, e questa è una coppia che ho ricomprato a posteriore da adulto quando ho deciso di riprendermi il Master System con i giochi, perché non ci tenevo, ce l'ho troppo affezionato. Secondo me, da qualche parte del mondo, se non è stato buttato, incenerito, distrutto, c'è il manuale con i punteggini segnati da me, perché era una cosa che facevo da bambino, tipo ho ancora i giochi datati del 2006, lì ci sono i punteggi segnati, ne avevo mostrato, mi sembra, uno una volta, qua su Outcast, c'erano anche i punteggi segnati da una mia amica di quando ero bambino, che non ricordo assolutamente chi fosse. Va bene, per questo unboxing è tutto, ne arriva un altro legato al Retro Outcast su Mystery House che faremo nei prossimi giorni, quindi ancora una cosetta, se tutto va bene, prima della pausa natalizia. Ciao! Ciao!